Ho sei anni, perché devo andare a fare la spesa con nonna? Adesso ascoltami, dia alla nonna di prendere l'olio, i fagioli. No, nonna, i fagioli, non i cannoli. E poi dille anche di prendere... Sono sempre di più le famiglie che chiedono aiuto per la spesa rivolgendosi alle strutture caritative in Abruzzo e Molise che il Banco Alimentare sostiene in tutta Italia domani, sabato 26 novembre. Naturalmente anche in Abruzzo e Molise torna la colletta alimentare giunta alla 26esima edizione. In Abruzzo oltre 400 i punti vendita che aderiranno e 4.000 i volontari dalle pettorine arancioni che inviteranno i clienti a comprare prodotti a lunga conservazione come verdure, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, alimenti per l'infanzia e latte in polvere. L'appello è rivolto a tutti e per il secondo anno consecutivo il calciatore Giorgio Chiellini è testimonial della colletta. Nel 2021, grazie alla colletta alimentare, sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l'equivalente di 14 milioni di pasti. Il direttore del Banco Alimentare Abruzzo e Molise, Cosimo Trivisani. Lo scopo della colletta è quello di chiedere ai privati, alle famiglie, a chiunque si rechi domani al supermercato, una donazione per Banco Alimentare. L'appello che facciamo è che se anche fosse una scatoletta non uscita a mani vuote dal punto vendita. Dato da sottolineare che aumenta, come detto, la povertà relativa di famiglie che non riescono a fare la spesa per il rincaro dei prezzi del cibo. Il Banco Alimentare aiuta chi aiuta. Abbiamo 224 strutture caritative che aiutiamo in tutte e due le regioni per un totale di 38.900 assistiti circa. Stanno aumentando le richieste perché sta aumentando la povertà, diciamo, quella relativa, quella delle famiglie. Perché? Perché comunque anche acquistare i prodotti alimentari in questo momento ha subito un aggravo dell'11% in più. Molte famiglie risparmiano sul prodotto alimentare per poter pagare i costi dell'energia che sono arrivati alle stelle. Il Banco Alimentare si colloca tra chi chiede aiuto e chi aiuta. Lo facciamo durante tutto l'arco dell'anno. Il Banco Alimentare deve far fronte anche a un aumento del 45% dei costi di gestione tra logistica, trasporti ed energia elettrica e ad un calo del 30% delle donazioni economiche da parte di aziende privati. Chiediamo quei prodotti che difficilmente recuperiamo dalle aziende specie in un periodo di crisi come questo dove le aziende giustamente programmano la produzione in base al venduto eccedenze se ne generano di meno va da sé che anche le donazioni verso il Banco Alimentare sono di meno è un paradosso importante che invece abbiamo dei costi ulteriori per la logistica. Il 26 novembre partecipa anche tu alla colletta alimentare. Insieme per chi è in difficoltà è un lato di ricetta e un'altra cosa che sia in difficoltà sono di ricetta che i raggiungi Grazie a tutti.